Come fenomeno economico e sociale, nonché imprenditoriale e professionale, il perimetro del tempo libero, del tempo del divertimento e dell'entertainment è un perimetro di significato sempre più ampio nella nostra società. La quinta edizione delle conferenze sulla comunicazione e sui media si è posta all'obiettivo di analizzare il settore della comunicazione interrogandosi su quali strategie siano più adatte a interpretare le logiche domanda offerta del mondo dell'intrattenimento. A cattivare nuovi target, come si fa? Bisogna mettersi dalla loro parte, assolutamente. Quindi non bisogna in qualche modo perseguire quella strada della persuasione, che è una visione molto antica del marketing e della comunicazione, ma bisogna cercare di capire il più possibile quel che i giovani o anche effettivamente coloro che non sono più giovani desiderano trovare sia nei prodotti, nei servizi e in quello che le aziende possono dare loro. Quindi mettersi completamente nei panni del nostro interlocutore. Si trovano pensando alla congiunzione tra i beni di consumo, i servizi e l'entertainment. Non c'è praticamente spazio per nuovi prodotti se non c'è anche un'occasione di comunicazione che sia legata all'entertainment. Perché i consumatori vogliono usare al meglio il loro tempo libero che la vera risorsa scarsa e quindi uniscono nel momento stesso in cui influiscono dei beni di consumo anche l'entertainment. La conferenza organizzata dal Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media della Facoltà di Economia di Tor Vergata, in collaborazione con Enel e con il patrocinio Ferpi, si propone ormai da anni come un'opportunità per approfondire le tecniche che dirigono le imprese nel composito mondo della comunicazione. In particolare questa volta sull'Experience Economy, quell'economia che cerca di soddisfare i desideri del consumatore che sa apprezzare il valore del tempo libero, valorizzare il tempo libero attraverso nuove strategie economiche. Sì, l'economia di questi giorni, di questi tempi, come soddisfare una domanda crescente di intrattenimento nel largo della giornata, non necessariamente esclusiva, quindi la persona che fa tante cose le fa in contemporanea e cerca anche come divertirsi. Per noi comunicatori è un campo sperimentale importantissimo, ci stiamo tutti lavorando, mettendo insieme capacità delle tecnologie, conoscenza dei target e soprattutto con una grande capacità di usare i linguaggi. Che cosa ci si aspetta da questo incontro? Ma da questo incontro ci aspettiamo di focalizzare un tema che è nuovo sia per le aziende che direi per gli studi universitari, ossia l'entertainment che è un settore, un macro settore in cui noi troviamo la musica, il cinema, la televisione, tutte le forme di intrattenimento sta diventando quindi non un mero settore industriale verticale, ma sta diventando un settore che è allargato a tutte le forme di comunicazione aziendale. Le aziende si sono rese conto che se non attivano dei meccanismi di coinvolgimento, di impegno verso i consumatori e verso gli stakeholder, in qualche modo non riescono a conquistarli. Grazie. Grazie. Grazie.